Sono ripresi oggi gli allenamenti degli squali con vista sulla Dacia Arena di Udine, dove domenica prossima alle ore 15 si chiuderà il 2016 dei Pitagorici. Già perché, come risaputo, la gara con la capolista Juventus non si giocherà il 22 dicembre, quando tutte le altre squadre saranno impegnate nel 18esimo turno, ma verrà recuperata in una data ancora da decidere causa l'impegno di Supercoppa italiana tra, appunto, la Juventus ed il Milan. Dunque quella di domenica sarà l'ultima occasione per far punti in questo 2016 straordinario per i colori rosso-blu. Non va infatti dimenticato che questo è stato un anno storico ed è un anno che difficilmente sarà dimenticato da chi sostiene questi colori e che anzi sarà motivo d'orgoglio per molti anni. La cavalcata è iniziata un po' in sordina e infatti sfociata in quel 29 aprile che ha consegnato per la prima volta la Serie A alla Piccola Crotone, provincia più povera d'Italia ed ultima in tutte le classifiche con problemi che non riusciremo ad elencare in un semplice servizio sportivo. Dunque quel momento, oltre ai festeggiamenti del caso, è stato un momento di rivalsa, una rivincita sotto tutti i punti di vista. Bene, domenica nel lontano Friuli si cercherà di chiudere col botto l'anno per poi tuffarsi nel 2017, che magari ha in serbo miracoli ancora più grandi. Il 4 dicembre, al Motor Show di Bologna, lo stand Frangivento Italia ha ospitato la nazionale di nuoto pinnato e il CT Luca Tonelli, per la presentazione dell'innovativa vettura Asfane, che viene paragonata allo sport acquatico più veloce che c'è il nuoto pinnato. All'evento, organizzato da Martino Angelini, è stata invitata la presidente della Pinna Splash, Gianna Panaia, che ha partecipato alla presentazione ufficiale della vettura, con molto entusiasmo, visto l'accostamento della Formula 1 degli sport acquatici alla velocità della vettura. La social car, presentata in anteprima mondiale a Motor Show di Bologna, è la prima supercar italiana full electric, dal design originale, poiché il suo profilo riprende la forma del tuffo di un atleta con monopinna dal blocco di partenza. Asfane Hyper Sport Italia, di Frangivento, è un'auto social dal core green, che dialoga con l'uomo, scatta selfie e li posta sui social network. È aerodinamica ed ha un design futuristico, comunica con l'esterno, grazie a dei sensori che permettono di monitorare la performance in pista. Al Motor Show è stata presentata nella versione Rosso Lambrusco. Ideata, progettata e realizzata da Giorgio Pirollo e Paolo Mancini, grazie alla sinergia di diverse aziende italiane, il nome Asfane dal piemontese non si può fare, è una provocazione di Pirollo, che ha raccontato la reticenza verso il suo progetto da parte delle grandi aziende automobilistiche piemontesi, progetto che infine ha realizzato. Con 90 punti di distacco sulla seconda, la Crotonuoto si impone al trofeo regionale a squadre, riservato alla categoria esordienti, che si è svolto lo scorso fine settimana a Catanzaro. Una prova, quella dei ragazzi dei due tecnici, mister Roberto Fantasia e Antonio Proietto, che inorgoglisce i dirigenti e gli allenatori, perché è la giusta ricompensa per un lavoro certosino che si fa all'interno del vivaio della società di nuoto crotonese. Dunque la compagine crotoniate porta a casa 12 primi posti, 16 secondi posti e 14 medaglie di bronzo. In particolare bisogna segnalare la prestazione delle atlete, che, rispetto ai loro colleghi occupati nelle gare maschili, hanno dominato ovunque. Oro nella categoria esordienti A per Maria Vittoria Ioppoli, nei 200 dorso, 200 misti, 400 misti e 400 stile. Giulia D'Angelio ha vinto nei 100 rana, nei 200 stile, mentre Giulia Filippelli nei 100 farfalla e nei 200 farfalla. Per la categoria esordienti B, Angela Batti si è imposta nei 50 e nei 100 farfalla, mentre Alessandro Crugliano ha vinto nei 100 rana. Successo anche per gli esordienti C, che non hanno conquistato medaglie d'oro, ma hanno ottenuto buonissimi piazzamenti, con Giovanni Montoro, che è arrivato terzo nei 50 stile, così come terza si è classificata anche Alessandra Greco, nei 50 dorso. Buonissimi sono stati i piazzamenti anche degli altri componenti della squadra e nelle altre discipline, risultati che hanno contribuito all'indiscusso successo della Crotonuoto.